Ciao ragazzi, benvenuti sul mio canale, io sono Magnus, siamo sempre qui con LEGO City Undercover, ci troviamo sull'isola di Apollo Praticamente ci troviamo, come già vi ho detto, all'interno del centro spaziale Sono un po' preoccupato perché la situazione è abbastanza complicata Ma naturalmente, come al solito, ci diciamo come al solito, ai saluti, partiamo in successione con Arcangelo Giglio, Giovanni, Leone, Bros Però questa avventura vi stia piacendo, naturalmente, come al solito, vi invito come sempre a mettere un bel pollice, un bel commento, un bel mi piace Ok, ci buttiamo con il nostro astronauta, anche perché penso che sia lui quello che dobbiamo utilizzare più spesso all'interno qua dentro Perché ci dobbiamo praticamente camuffare, perché se no qua ci sgamano e ci ammazzano Comunque, sto distruggendo un po' alcune co... Che si fa qua, scusate Vabbè, sblocca qua un attimo Allora, io penso che qua ci serva qualche... Aspetta Tac Ok, ok, perfetto Quindi dobbiamo fare così, aspetta Mi raccomando, cerchiamo di indovinare Tac, 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 tac Ok Meno male Ok Ah, ti serve, c'hai ragione, c'hai ragione, scusami Ok, l'hai caricato, ma non ho capito che cosa dobbiamo mirare Per proprio ve lo riusciamo a sbloccare Qua di cavolo ci sta qua dentro Ma qua non riesce a saltare questo, ma no Vabbè, aspetta che forse ho trovato qualcosa, aspetta Vai Perfetto, grazie Oh, ciavolo Allora, aspetta un attimo che qua c'è un po' di situation strana, eh Comunque, saliamo un attimo Ammazziamo sti tizietti un attimo Ciao ragazzi, ciao, ciao Mi sa che siete proprio spacciati alla grande Manette Sessanta sberle al secondo E vai Allora, rompiamo un po' di cose Perché secondo me qua tutte ste gasse a qualcosa serviranno Perfetto Ci serve il nostro fantastico astronauta Vai Ok Qual è l'ordine? Ok Tac 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 Bene così Ok Dov'è che si sblocca? Di qua Ok Ah, dobbiamo montare tutta una serie di parabole? No Ho questa No, tutte parabole dobbiamo montare Allora, la prima l'abbiamo montata E penso che tu sia anche contento Ok Tu sei con noi o contro di noi? No, non fa una mazza Vabbè, ok Rompò qua, eh Perché qua secondo me Però quante monetine Porca miseria Meno male che ci abbiamo il moltiplicatore Ok Aspetta, eh Qua non l'abbiamo affatto ancora Ok Eh, eh, sì Avevo intuito che non andavi bene, eh Scusami Allora, andiamo dall'altra parte Perché forse è probabile che da qua Riusciamo a fare qualcosa Ho sblocato anche quest'altro Così sblocchiamo tutti quanti E siamo contenti Ammazza che arma che c'hai Perfetto La musica non mi piace però Mi rende un po' ansioso Allora, qua ci sta una cassa No Sì Finiamo di montare No, questa la dobbiamo spingere Questa cassa, eh Perfetto E vai Mi sa che devi andare all'altra parte Però Sì, devi spingere anche da quest'altra parte Scusami, mi dispiace Ti facciamo fare sempre il lavoro più brutto Ok Anche questa l'abbiamo posizionata Rompi anche quest'altra Che pensa che sia anche un'altra cassa Che dobbiamo montare Vai No, questo è un caricatore Però aspetta un attimo Ah, aspetta, aspetta, aspetta Eh, c'ha ragione Scusami C'ha ragione C'ha ragione Aspetta Vai Vediamo se è quello che dobbiamo mirare Vai E che fai? Non mi inizio Ok Attenzione sotto Grande Ok, quindi anche quest'altro Siamo riusciti a recuperarla Vai Che monti Perfetto Questo forse dovrebbe essere il penultimo Però Credo e spero Però Ok, anche questo l'abbiamo attivato Alla grande Questo non è nessun tasto Perfetto Allora, quindi Rompiamo anche questo Rompimi anche quest'altro di due Ok Ah, mi dava fastidio sull'infiltrazione là Ok, aspetta Questo lo voglio rompere No Ok Rompiamo anche quest'altro di qua Allora Qua c'è un problema con qualche cosa Perché qua mi rimbalza Ma non mi rimbalza qua Quindi secondo me C'è qualcosa che va storto Aspetta Forse dobbiamo Ok, non si deve rompere Proviamo ad attivare un mattimo E aspetta Allora, che colore mi dai? Vediamo un po' Forse questo è grigio Ok, tutto grigio Perfetto Laser 2 collegato Ammazza Mi hai fatto cagare addosso Mi sono spaventato Ok Qua invece il colore Non so se è quello giusto Però Sì, è quello giusto Ok, vai Laser 1 collegato Sì, è questo Abbiamo mandato una, due E poi uno Al minimo Al minimo Ok, abbiamo trovato Il motorino La macchina Non ce l'ha gettare Però così Ah, dobbiamo salire Lassopra Ah, ok Vabbè C'è C'è Aia Abbiamo visite Eh no Eh che fai Devi ammazzarlo Non è che devi spingere Oh Ok, addio Addio Vai lancialo Lancialo Aspetta un attimo Che devo mettere la manetta A te E a te Che hai fatto? Ti sei alzato Ok, l'abbiamo salita Mi siamo saltati in testa Vai Ok Si sale No Ascensore in testa Vabbè, ok Ci sono dentro Vai Portami su Ok Aspetta Lì c'è una cosa Non possiamo saltare Lassopra Come cavolo facciamo Saltare lassopra Forse ci arrivo Soltanto da là Vedremo Aia Questa non è la mia specialità Vai piano Là ci sono Il personaggio Di là Vediamo se riusciamo A vecchire Ah, purtroppo Non lo posso disattivare C'è ragione Vabbè, non abbiamo l'abilità Vabbè, non fa niente Lo recupereremo anche quello Rompiamo anche quest'altro Abbiamo sbloccati tre Allora Questo cos'è? No Ci si è terminato Quindi devi prima sbloccare questo Vai Che forse siamo Fortunati E vecchiamo Qualcosa qua dentro Aspetta Penso che qua Ah, ho sbagliato Ho sbagliato Ho sbagliato E possiamo avanzare Anche se il minatore Non lo vedo all'altezza Qua abbiamo sbagliato Che dici? Ammazza È male che sappiamo montare Perché l'hai gettato Proprio delicatamente Ok, buttiamoci giù Delicatamente anche noi E vai Il montaggio è quasi pronto Tu che fai là? Allora Vediamo un po' Perché qua Non sa che devi andare All'altra parte Allora, ho un po' di difficoltà Ok Stavo a marciare indietro Dove vado? Di qua? Aspetta, aspetta Vai, entra, vai Go Uh Ehi Quella è la mia auto Non è la tua auto Sei così possessivo Va bene È la nostra Comunque non è sua Andiamo Ma dove va? Però che gli uomini di Gianni Mi stiano aspettando al mondo Lo speri? Lo so Vedremo 100 spazzate all'isola A bullo livello Completato Alla grande Abbiamo beccato Un po' di cose Quindi voglio Tenere d'occhio Questa cosa Perché potrebbe essere Una buona Yes Oh Così ci piace Mattoncino d'oro Sblocchiato Alla grande Sapevo che avevamo Sblocchiato qualcosa Vai continua Autista Cattive notizie Che balle Non sono al molo Grazie Sì lo vedo Sì lo vedo anch'io Sono in ritardo E per ritardo Intendo che Non hanno ancora Tramosso il loro Didier Oh In realtà Sono partiti E io Chi sgriderò Adesso Arriveranno fra poco Vero? Credo di sì Finché non arrivano Cerca di non danneggiare Il buggy lunare Scusa Ma ora esco in strada A urlare A qualche sconosciuto Ci vediamo Autista Questo è pazzo Questo è più pazzo Evita la sicurezza Dell'isola di Apuno Porca miseria Aspetta Ammazza Credo che sia Leggerissimamente Incontrollabile Questa macchina Attenzione che ci abbiamo Qualcuno qua Che ci sta Elettoralmente Perseguitando Avanzo da quest'altra parte Vai di qua Vai Cerchiamo E proviamo Ad evitarlo Mi sono buttato Sulla vista Di aerei Allora Non vorrei Scoraggiarti Ma qui In pratica Non ci sta niente Bra Dove arrivate Ragazzi Dove arrivate Lasciatemi stare Mi butto qua dentro Ok Vai Vai Veduce Aspetta Vediamo Ce la facciamo Ciao ragazzi Ciao E vai Ciao Ok Mi butto la vostra Tra parte Andiamo qua su Ok Ammazza Dove cavolo Sono andato a finire Mancavano tre secondi Ce la facciamo Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Vai Se Non cammina più Ok Stanno arrivando Ah Meno male Sono più tranquillo Ok Ok Quindi possiamo stare Tranquilli Gli uomini Di chen Sono Arrivati E Penso Che a questo punto Siamo Credo Almeno Penso Quasi Salvi Ma Penso Sicuramente Di sì Ok Ragazzi Anche questa parte Termina Qui Naturalmente Come al solito Mi invito Come sempre A mettere un bel Mi piace Mi fa piacere Che avete notato Questa piccola miglioria Grafica Perché ci sto mettendo Molto impegno Ma lo so Che vi fa piacere Perché state condividendo Mettendo pollice in su E commentate Detto così Come sempre Mi piace Se ti piace Mi piace Non ci vediamo Siamo passati E Bye